Il nome Camerota magari deriva dal greek Cameraton, che significa la construzione per un arco, come comprometto dai numeri cagli naturali, o, secondo alcuni scolari, di una particolare caratteristica di construzione tecnica di Camerota, con cui il patto basico è il arco round. Il comune di Camerota è composta di 4 locali molto interessanti per visitare. Marina di Camerota, che in origine rappresenta il piccolo hamlet dei pescari, con un piccolo pavimento in ponte. Nella città c'è la città di Sant'Alfonso, aperta al pubblico su 1874. In Camerota è possibile ad ammirare le ruine del castello Marchesale, che sono parte della città, e le tueure di top della ponte. E il castello, vicino a Porta di Suso, l'unica esistente tra le porte medievali, che si tratta di due arco, che sono parte della città di Marchesale. Un'altra locale è Lentiscosa. Una città di cascari medievale riuscita a torno alla bellissima città di Santa Maria di Martires, e L'Icusati, in cui tutta la città ha paesi particolari vecchi e le porte di fronte. È un hamlet dominato dalla forma meravigliosa del santuario della Santissima Annunziata. Il hamlet è famoso per le sue belle ponte. Il suo porto è un po' notorio per la qualità ottimale dei pescari e per essere il punto di vista delle discussioni sul mare, verso Scario e in Frisky's Bay, che dà acqua di acqua fresca. Il monastero di Santiconio offre un'immersione nel mondo antico Basiliano e l'influenza della vista per la nuova foresta. Non sbagliate la cala, la proprietà di materiali archeologici, la città e il riparo del poggio, la città della serratura, il big cave di Scario e il riparo del molare di Scario. Con il suo patrimonio naturalistico, Monte Bulgaria introduca la vegetazione di roccia mentre nel Vallone del Marcellino, tra il Bale di Infreschi e Scario è possibile trovare la vegetazione mediterranea con 200 specie botaniche come l'agave, l'olive, la primula palinuri, il Pinus aleppis e molte delle specie importe, tra le quali sono le palme, lecce e le tree chestnut. È possibile trovare animali e il falcon peregrino, l'otter, l'herring gulla, il pesante, il buzzard, l'erring gulla, l'erring gulla, il bugger e il fox. Grazie! 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 Grazie!